Sindaco Brucchi, la minoranza dice no alla privatizzazione dell'acqua e dice no alla riduzione dei dipendenti del ruzzo. Oggi il Presidente ci ha presentato una relazione sul passato facendo una fotografia da mandare poi al lato che la deve trasferire alla Regione. Questo è quello che stiamo facendo oggi. E' chiaro che il Presidente in questa relazione, che ripeto una fotografia dell'esistente riferito più al passato che al futuro, ci dà alcune indicazioni. Ora, la domanda è un'altra. Ma noi la vogliamo salvare questa società o vogliamo farla morire? Io la vorrei salvare. Non so gli altri cosa vogliono fare. Il Presidente nella relazione dà delle indicazioni, dà degli spunti. Quelli per fare alcuni investimenti probabilmente ci potrebbe essere la necessità di rivolgersi ai privati. Io sono assolutamente d'accordo. Stanto il fatto che la capacità di indebitamento di questo ente non esiste. E se si devono fare investimenti è quasi normale e naturale che ci si rivolga al privato. Mantenendo un controllo su queste attività. Io non ci vedo niente di strano in questo. Al centro-sinistra invece, quando si parla del privato, si parla del demonio. Quindi noi su questo non siamo d'accordo. Sul discorso del personale, noi siamo assolutamente d'accordo che il personale va salvaguardato. Però il Comune di Teramo non ha potuto oramai da diverso tempo assumere più interinali. Perché? Perché c'è la necessità di fare una revisione della spesa e di fare un risparmio. Io credo che la stessa strada la debba percorrere anche quegli enti, quegli istituti, tipo il Ruzzo. Ma anche altre istituzioni che vogliono in qualche modo rivedere la spesa. Quindi il Presidente oggi non ci ha detto che vuole mandare a casa uno, l'altro, 10, 15, 20. Ci ha detto che bisogna fare una revisione della pianta organica. Io su questo sono d'accordo.